Si dice prosecco e si pensa a un calice di vino bianco, inconfondibile per colore, sapore e bollicine, ma soprattutto provenienza. Si dice prosecco e si pensa a Valdobbiadene ed intorni. Questo fino a pochi giorni fa. È di poche ore, infatti, il decreto ministeriale che permetterà anche ad alcune zone del Friuli Venezia Giulia, 200 ettari in totale, di piantare le famose viti glera, le piante del prosecco, grazie all'investimento di una parte dei 314 milioni di euro a disposizione a livello nazionale. Saranno le sole quattro province del Friuli, Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone e le cinque del vento, quindi Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Belluno, a poter coltivare la vite glera in bottigliare uniche nel mondo, vino prosecco. Ed è stato con il gesto simbolico di piantare una barbatella di glera, proprio nella località di Prosecco, sul Carso Triestino, che il ministro delle politiche agricole, Luca Zaia, ha inaugurato la nuova DOC Prosecco, in aggiunta alle già esistenti DOCG Storiche Venete, Conegliano-Valdobbiadene e Colli Asolani, con una previsione di produzione totale di oltre un milione di ettolitri per la prossima campagna 2009-2010. Benvenga questa disponibilità, soprattutto di Prosecco, per fare questo percorso insieme, quindi direi che questo successo lo dobbiamo accreditare a queste due grandi comunità, i Veneti e ovviamente i Friuli Venezia Giulia e i Giuliani in questo caso.